E la lingua è quella cosa che si muove nel parlare ma da noi può capitare che si muova stando mut Cagnolina è quella cosa che può avere un gran valore specie poi per le signore perché vispo e le cappià La fregata è quella cosa che del mar ti fa la guerra ma puoi farla una terra e ti costa molto meno Farmacista è quella cosa se stai bene te ne freghi viceversa poi lo preghi se per caso sei malato E l'uccello è quella cosa che la cappia si è piu diato ma se è piu domesticato ci va dentro il doppio zero La baccaia è quella cosa che ti vende un francobollo e per fare la graziosa teloletta sull'idien Petrolina è quella cosa che ti burro in tonne a bordo e ti dice ti è piaciato se ti offendi se ne freghi ti è piaciato, ti è piaciato se ti offendi se ne freghi ti è piaciato, ti è piaciato se ti offendi se ne freghi